Ciao a tutti ragazzi vi farò vedere appunto il nodo per girelle o moschettoni Clink knot. Si fa passare due volte la lenza madre all'interno dell'occhiello poi si fanno almeno 4 o 5 giri così e poi fa passare bagniamo un po' e tiriamo e questo dovrebbe essere il risultato da ottenere un nodo molto resistente e anche molto semplice